Ciao a tutti, questo è il primo OpenTalk dedicato agli smartphone liberi. In realtà non è il primo, ma sarebbe l'ottavo. A causa di problemi di registrazione l'audio del primo talk non è venuto molto bene, quindi lo stiamo riregistrando proprio in questo momento. Non c'è il pubblico, quindi mancherà quella interattività, ma il primo talk era un talk presentativo e quindi non ci sono troppi problemi in questo caso. Quindi farò un breve recap, una breve ripresentazione di quello che andremo a trattare negli altri talk che in realtà è stato già trattato. Allora, io sono Davide e qui nella prima slide possiamo già vedere i miei contatti, quindi dove uno può contattarmi, fare domande, suggerimenti, richieste. Quindi Mastodon, che è una social simile a Twitter, però totalmente open source, Matrix, XMPP, via mail, oppure Sutrima, che è un'alternativa a Signal, completamente localizzata in Europa, i server sono in Svizzera. Oppure appunto Signal, che adesso dalla versione 7 permette anche l'utilizzo degli username, quindi senza dover dare il numero. Quindi senza problemi, chi mi vuole contattare, chi vedrà questo video, mi può contattare senza alcun tipo di problema. Ok, allora, inizialmente volevo parlare un po' di storia, in realtà più legato a me, come io mi sono avvicinato a questo mondo, al mondo dei telefoni e degli smartphone. Inizialmente giochicchiavo un po' col telefono di mia nonna, quindi che era un Nokia 3310. E il mio primo vero telefono, tra cavallo, tra media e superiori, è stato il motore Razor. Questo è il secondo che vediamo nell'immagine. E da lì, insomma, ho iniziato un po' a smanettarci, mi piaceva, più che altro ci giocavo. Il primo telefono in quale ci ho tanto smanettato, quindi modificato, eccetera, è stato il Samsung Star S5230. Il terzo nella depositiva. Era il periodo in cui erano usciti i primi iPhone 3G e 3GS. Questo qui era un telefono con un sistema operativo che si chiamava TouchWiz, che dopo è stata ripresa da Samsung e poi trasformata in una One UI. E mi divertivo, insomma, a customizzarlo, a modificare gli home screen, eccetera, per far sì che sembrasse un iPhone, perché proprio mi piaceva questo aspetto. E mi divertiva tantissimo, nonostante le potenzialità e il software che ci girava su questo telefono non era assolutamente paragonabile a quello dell'iPhone. Non c'era un Apple Store, non c'era uno Store, non c'era assolutamente nulla. Era un telefono classico, però touchscreen, ma di tipo resistivo, quindi col pennino. Il mio primo telefono Android è stato invece un Samsung Galaxy S Plus, basato su Android 2.3.6 Gingerbread. A un certo punto avevo notato che era uscito la versione nuova di Android, che era la 4, perché la 3 è stata una parentesi per i tablet, quindi è stata saltata, diciamo così. E questa cosa mi aveva triggerato tantissimo, nel senso che volevo provare il software nuovo, ma non avevo i soldi per comprare un telefono più aggiornato, più recente. E quindi avevo provato a cercare un po' online se fosse possibile aggiornarlo in qualche modo. E mi erano venuto fuori alcune guide, alcuni trick che parlavano di Sagiano Jamod, che dopo scopriremo anche cos'è, che in sostanza è una ROM alternativa. E varie guide su come installarla, su come flashare, che è un termine che vedremo nel corso dei talk, questa ROM su questo telefono. E da lì ho provato, smanettato, sono riuscito a farlo, seguendo le guide, non capendo bene cosa stessi facendo. E da lì, insomma, sono passato Android 2, Android 4, per me è stata la folgorazione. Da lì in poi ho sempre avuto telefoni, il mio obiettivo principale in telefono è che sia modificabile, ma non perché questa cosa sia fine a se stessa. Vedremo soprattutto la finalità di privacy, di sicurezza, e per avere un software che noi possiamo controllare e sappiamo cosa ci gira dietro, perché si tratta di software liberi e open source. Fatto questa panoramica, che cosa significa de-google-izzazione? E soprattutto che cosa andremo a parlare nel corso di questi vari talk. Allora, per de-google-izzazione si intende un processo che porta a liberare, in questo caso lo smartphone, da tutte quelle applicazioni proprietarie che dipendono da Google e dai suoi servizi. In realtà, questa cosa non è proprio vera, perché con questo termine, il termine ha un significato molto più ampio, che non si intende soltanto le applicazioni di Google, ma dei cosiddetti GAFAM, che quindi sono Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Quindi cercare di utilizzare il più possibile tecnologie libere e open all'interno del proprio telefono, e quindi tecnologie che possiamo controllare e possiamo scegliere noi. Quindi, benissimo, questo primo talk sarà un talk introduttivo, nel quale affronteremo in maniera generica che cos'è Android e le varie tematiche le toccheremo un pochino, che andremo a affrontare nel corso degli altri talk. che inizialmente saranno un po' più tecnici, per finire negli ultimi talk più pratici. E quindi magari metteremo un po' le mani in pasta, vedremo che non è così difficile installare una nuova alternativa, ci sono comunque dei punti da tenere in considerazione per poter procedere. Allora, che cos'è Android? Android è un sistema operativo mobile, è basato sul kernel Linux, e è distribuito, come abbiamo scritto, sotto licenza libera e a pace. Tuttavia, diciamo che Android, il cuore del sistema operativo Android, quindi che è l'Android Open Source Project o AOSP, è libero, ma è rilasciato insieme a una serie di componenti, di firmware, di librerie proprietarie, le cosiddette Google Apps o servizi Google, Google Play Services, che sono il cuore pulsante del sistema operativo e quello che utilizziamo tutti i giorni. Il codice Android è sicuramente un codice open, che è sviluppato da Google, e viene però a una sorta di distribuzione un po' anomala, perché solitamente c'è molta interazione nei progetti open source tra la community, tra gli sviluppatori e la community, che contribuisce in vari modi. Con Android invece è molto diverso, Android viene sviluppato internamente e privatamente da Google, e quando è pronto tutto il codice viene preso e rilasciato liberamente. Non che questo sia, diciamo, un male, ma non rispetta i dettami, che solidamente c'è più interattività con la community, che appunto anche contribuisce. Android è OSP, quindi completamente libero e open source funziona tranquillamente, ma è legato ai servizi di Google per poter interagire al meglio con il proprio telefono e con i propri account e servizi che solidamente la gente utilizza. E quindi perché questo termine, questa immagine è molto simpatica ed esplicativa, Android è cloud open source, nel senso che quindi il codice è sicuramente aperto, ma in realtà ci sono delle cose da tenere a mente. Il cuore principale di Android sono i servizi di Google. Sono un framework proprietario, quindi un insieme di librerie, che sovrintendono all'erogazione di funzioni di base del dispositivo, quindi ci permettono, permettono al sistema operativo di interfacciarsi con i sensori, con l'hardware del telefono. Quindi si occupano della gestione degli account, della sincronizzazione tra i vari device, dei servizi di geolocalizzazione, delle notifiche push, dell'autenticazione con i vari servizi Google che vengono utilizzati, del backup, dell'aggiornamento delle applicazioni. Infatti senza i servizi Google vedremo che sarà possibile, ma così di fabbrica non è possibile scaricare l'applicazione, non è possibile avere una sincronizzazione, almeno non è possibile farlo qui attraverso i server di Google. Vedremo che ci sono delle modalità per riuscire a fare le stesse cose, ma in maniera differente utilizzando dei servizi completamente liberi. Quali sono le problematiche principali legate all'utilizzo di software proprietario, e in questo caso dei Play Services, fondamentalmente il fatto che questo software è controllato strettamente da Google e quindi Google è nota, infatti abbiamo messo anche di vari link con critiche di censure, censure operate da Google nei confronti di utenti o di servizi, è nota per il tracciamento dell'utente a fine pubblicitari e o anche di sorveglianza. La gran parte dell'applicazione non funziona correttamente senza i servizi Google e questi sono necessari per le notifiche push, che sono il pop-up che appare quando ci arriva una notifica, ad esempio che può essere di un'applicazione messaggistica, come Signal, Whatsapp, eccetera. Ovviamente Google nel controllo e quindi lo sviluppo è indipendente dalla volontà dell'utente, ma dipende totalmente da Google. L'utente non ne ha il controllo, ma questo software è chiuso e gestisce in autonomia tutto il dispositivo. Esistono le alternative libere? Sì, una è Micro G, la principale alternativa libera ai servizi Google è Micro G, che vedremo successivamente cos'è. Le alternative ad Android in realtà sono le varie custom ROM che possono essere utili, quindi vari semi operativi personalizzati, sempre basati su Android, che possono essere installate con i servizi di Google, con Micro G, che è un'alternativa libera, oppure anche senza i servizi di Google. E vedremo che questa cosa è possibile e scegliendo attentamente le applicazioni che andremo a utilizzare non si avranno alcun tipo di problemi. Esistono ovviamente anche una serie di applicazioni alternative a quelle di Google, come possono essere Google Keep per le note, Gmail, eccetera, eccetera, o anche Google Chrome. Ci sono alternative altrettanto valide che funzionano altrettanto bene, se non anche meglio. E vedremo che esistono anche dei sistemi operativi alternativi ad Android, fondamentalmente tutti quanti basati su Linux e sviluppati dalla community. Vedremo verso gli ultimi talk, appunto, anche come si installano, come funzionano, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto questo software è software libero, quindi è usabile, analizzabile, modificabile e condividibile dall'utente in maniera libera e senza alcuna limitazione. Questa cosa è molto importante. Ovviamente in tutti questi talk io porterò la mia esperienza, parlerò delle cose che io so fare, delle cose che io uso e quindi ci potrebbero essere anche qualcuno che può dire ah ma io uso quell'applicazione, sì, certo ne esistono anche di altre rispetto a quelle che io porterò, che io mostrerò, ma io appunto parlerò di quello che io uso, io utilizzo e che a me piace, con cui mi trovo bene, per cercare di dare dei consigli. Quindi gran parte di questi talk saranno proprio incentrati a non tanto a far sì che l'utente con lo smartphone che ha già adesso possa sostituire la gran parte delle applicazioni proprietarie che utilizza con applicazioni libere e open. Quindi il mio intento è quello di consapevolizzare l'utente facendogli capire che esistono delle alternative, che queste alternative sono valide e che queste alternative sono anche semplici da utilizzare e che sono semplici da installare su qualsiasi dispositivo senza che sia necessario alcuna abilità tecnica avanzata. Infatti vedremo nel corso del terzo talk tutta una lista di applicazioni che installiamo che miglioreranno anche la security del nostro dispositivo e del nostro utilizzo. Ovviamente ci sono, come tutto nella vita, ci sono pro e contro all'utilizzare queste alternative. I pro maggiori, diciamo, quindi sono legati alla maggiore privacy, al maggiore controllo e libertà e quindi ha anche più aggiornamenti e sicurezza perché solitamente i vendor, i produttori, dopo un po' abbandonano il device quindi questo qui muore e non viene più aggiornato. Mentre con le Castor Home, siccome abbiamo noi il controllo, possiamo aggiornarlo per parecchio tempo in più e fino a che non ci sarà un maintainer, quindi un mantenitore del nostro dispositivo. sostanzialmente comunque si parla di diversi anni. Io per esempio avevo un vecchio Lenovo, un Lenovo P2, uscito nel 2016 con Android 6 e mai aggiornato. Io adesso sto eseguendo Android 12 su questo dispositivo. Esistono anche ROM con Android 13, non ne ho ancora provate perché ormai il mio dispositivo secondario non lo uso più. Però volendo si può aggiornare ancora e oggi siamo ormai nel 2024. I contro principali sono i potenziali malfunzionamenti o alcune applicazioni che potrebbero non funzionare, in particolare magari le notifiche, ma vedremo come risolvere questo problema e come mitigare questa problematica sostanzialmente facendo funzionare praticamente tutto. Le applicazioni principali tipo WhatsApp, Telegram e Company funzionano, c'è alcun tipo di problema. Qualche applicazione potrebbe non funzionare, ma vedremo appunto come capire se un'applicazione funzionerà, se non funzionerà, che problemi potrebbe dare, eccetera. Potrebbero essere perse alcune funzionalità, ma sostanzialmente non dovrebbe cambiare molto. Magari qualche caratteristica particolare del produttore, magari la modalità desktop specifica di, magari quella viene persa perché le ROM che installiamo sono comunque open, ma basilari, non hanno nessuna caratteristica così avanzata da quel punto di vista lì, ma sono molto attenti alla privacy e quindi qualche funzionalità specifica potrebbe essere persa. Ho anche elencato un articolo della Free Software Foundation Europe in cui spiega i motivi principali per i quali sbloccare il proprio device. È un bellissimo articolo anche in italiano, quindi secondo me vale molto la pena leggerlo. Quindi abbiamo parlato di Micro G, che cos'è Micro G? Micro G è una, come abbiamo scritto, una reimplementazione e riscrittura libera e open dei servizi proprietari di Google. Quindi in sostanza sono una riscrittura dei Play Services che permettono in questo modo, e vedremo come funzionano in maniera più dettagliata nei prossimi talk, quindi qui è soltanto un accenno, una panoramica delle cose che toccheremo fondamentalmente, permettono di mantenere tutte quante le funzionalità, o la stragrande maggioranza delle stesse, anche non avendo installato i servizi di Google. Ovviamente sono un compromesso perché un minimo di tracciamento anonimo in realtà vi è lo stesso perché comunque alcune informazioni devono essere inviate ai server di Google, ma queste informazioni sono anonime e non sono legate ad un account appunto perché non c'è un account. Quindi sono un framework con un insieme di librerie per creare una distribuzione Android totalmente retrocompatibile ma senza alcun componente proprietario, questa è la cosa fondamentale. Vedremo che funzionano out of the box, si installano in maniera semplice, semplice, semplice. Non tutte le ROM lo supportano e vedremo quali sì e quali no. Ad esempio vediamo sotto c'è già il link di Calix OS che è una delle ROM principali che lo supportano dove spiegano benissimo cos'è MicroG, quali sono i suoi vantaggi, quali sono i dati che magari vengono comunque inviati a Google anche se in maniera anonima. Ed è una cosa anche abbastanza evidente perché per poter accedere al Play Store eccetera eccetera ovviamente qualcosa Google deve pure essere inviato. e la maggior parte delle applicazioni funzionano benissimo con MicroG, non c'è alcun tipo di problema, potrebbe esserci qualcuna che magari dà qualche problemino soprattutto legato alle notifiche ma in realtà sono veramente 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 rare e quindi fondamentalmente funziona praticamente tutto. Comunque vedremo appunto nei prossimi talk delle applicazioni e dei servizi che ci aiuteranno a capire nel momento del passaggio, se uno lo vorrà fare, quale applicazioni che uno utilizza potrebbero non funzionare o dare problemi. Sostanzialmente nella mia esperienza io non ho mai avuto alcun tipo di problema. L'unica app che non andava nel corso di miei ricordi era per esempio quella del McDonald's che aveva dato qualche problema ma penso che sia legato al butello del sbloccato o cose del genere. Ad esempio tutte quelle delle banche, delle poste, Whatsapp, Facebook, Instagram eccetera funzionano senza alcun tipo di problema. Nei prossimi talk, quindi come abbiamo un po' già parlato perché questo è un talk introduttivo, parleremo di come avvengono gli aggiornamenti Android, perché non sempre i telefoni vengono aggiornati, cosa sono le custom ROM, come funziona Micro-G, e faremo qualche accenno sui sistemi operativi liberi. In particolare affronteremo nel dettaglio le varie ROM alternative di cui parlerò principalmente e alcune delle quali anche installeremo in un telefono nel corso dell'ultimo talk. Per chi volesse, siccome questo qui è un talk recitato successivamente, per i problemi detti inizialmente, il 13 di aprile ci sarà anche l'install party, sempre nella mailing list di smartphone liberi, nella quale chi vorrà potrà venire e si cercherà di installare un sistema operativo alternativo, quindi una ROM Android libera su un telefono che può essere quello principale oppure quello secondario. Io ricordo che comunque installando una ROM alternativa su un telefono qui viene invalidata la garanzia che può essere o meno un problema, io non ho mai avuto alcun tipo di problema, l'ho sempre comprato e installato subito ROM alternative e non è mai successo nulla. Vedremo comunque tutte queste cose in futuro e nel dettaglio. Mi ricordo che nel corso del primo talk c'erano anche state alcune domande, che magari qui non me le ricordo, quindi non tutte le potrò riportare. Una che mi era rimasta, che mi è rimasta in mente, cioè alcune che mi sono rimaste in mente, era ad esempio se con Lineage OS, che è il sistema operativo, la custom ROM principale, che vedremo e quella da cui molte altre hanno forcato, quindi hanno derivato, se questa può comportare dei problemi di funzionamento hardware oppure se sostanzialmente funziona tutto. La mia risposta è che proprio per politica di Lineage la ROM ufficiale viene rilasciata solo se tutte le funzionalità del device sono supportate e quindi se funziona tutto, in caso contrario invece il telefono, cioè la ROM non viene rilasciata, quindi posso dire che sì, funziona tutto e non c'è alcun tipo di problema. Un'altra richiesta che mi era stata fatta era tu quale telefono consigli? Allora dipende in realtà, dipende dal budget, da cosa uno vuole fare e cosa uno ha necessità di fare con un telefono, perché c'è chi ha una maggior necessità di una buona fotocamera, di tanta batteria, di un ottimo schermo, di prestazione e potenza. Secondo me è un buon device per iniziare, ne abbiamo parlato e soprattutto nei talk successivi, è il Moto G32, con le versioni lì, perché è compatibile con diverse ROM, costa poco relativamente, perché comunque la versione 8, 256GB costa sui 120-130€ su Amazon o su store alternativi, e quindi un ottimo device per iniziare perché supporta sia Lineage che Calix OS, Calix OS, che è una ROM molto molto incentrata sulla privacy, quindi sicuramente è un ottimo dispositivo. Poi mi era stato chiesto se ci fosse anche qualche alternativa per tablet, quindi qualche ROM per tablet, se anche i tablet venissero supportati, sostanzialmente no, cioè non ci sono tablet ad oggi supportati da Lineage ufficialmente, o pochissimi, molto vecchi, quindi la mia risposta era no. In realtà nei talk successivi abbiamo visto che è possibile tramite delle GSI, quindi delle ROM generiche, e vedremo per chi avrà voglia di guardare gli altri video cosa sono, è possibile installare queste ROM generiche su qualsiasi dispositivo uscito con Android 10 o superiore di fabbrica. Quindi in realtà anche comprando quei tablet cinesi, per o male da poco, se è possibile e si riesce a sbloccare il bootloader, è possibile installare queste ROM generiche, che magari sono basate appunto su Android OSP, quindi senza i servizi di Google, oppure è possibile anche installarle in quelle con, ma comunque avendo un sistema operativo più libero di quello originale. Come siamo messi lato smartwatch? In realtà esiste un progetto che si chiama Asteroid OS, che non è morto, nonostante ci siano abbastanza device supportati, non sono tantissimi, e non sempre super recenti, però in realtà ce ne sono, ed è un progetto vivo che va avanti piano piano. Se esistono delle alternative ad Android in realtà sì, ne vedremo, appunto sono basate su Linux, come Post Market OS, come Mobian, come Droidan, eccetera, ce ne sono. Ovviamente il problema principale non è tanto il funzionamento dell'OS che funziona, è anche abbastanza stabile, tutto sommato, ma è la mancanza di applicazioni. Parleremo di store successivamente, nei prossimi talk parleremo di store alternativi, ci sarà un talk che sarà fatto in collaborazione dal PNLUG, me e quindi Davide e Giovanni Zeccardi, che è un avvocato, e parleremo di aspetti legali e tecnici legati a privacy tracciamento e smartphone, sarà un talk secondo me molto interessante. Questi open talk sono stati organizzati dal PNLUG, in particolare dalla figura di Alain, e loro si ritrovano al Polo Tecnologico di Pordenone, dalle 19.30 circa, fino alle 22 circa, tutti martedì, quindi per chi vuole venire a trovarci, noi siamo sempre qui, liberi, disponibili, aperti a tutti. Io ringrazio quelli che hanno ascoltato il primo talk, che purtroppo l'audio era decisamente brutto, quindi per problemi tecnici legati a varie disavventure, e quindi è stato riregistrato. Ringrazio quelli che vedranno questo video, che sarà un po' più breve, un po' più veloce, sicuramente rispetto al primo, però decisamente con un audio migliore, quindi grazie a tutti.